ciao amici allora d'artagnan eroi comuni che fanno la storia è un podcast che io a cui venisse stiamo lavorando già da un po è una storia in sei puntate che racconta il sabotaggio del ponte ferroviario di brea avvenuta il 24 dicembre del 44 per mano di 13 partigiani la campagna di crowdfunding è partita due giorni fa stiamo già avendo dei risultati molto sorprendenti assolutamente sì e se anche tu vuoi contribuire basta andare su www.eppela.com e digitare il nome d'artagnan vedrai comparire questa immagine che l'immagine della nostra raccolta fondi e basterà cliccare su contribuisci puoi scegliere una ricompensa e noi abbiamo pensato a tutta una serie di ricompense che sono a tema con la storia che raccontiamo quindi puoi scegliere se essere collaboratore resistente combattente staffetta stratega del sabotaggio sabotatore o comandante dell'operazione dacci una mano anche tu dateci una mano a tutti quanti a sostenere questo questo progetto che racconta una piccola grande storia di un piccolo grande territorio grazie questo dovete imparare a memoria grazie a tutti